buongiorno da stefano carrara bentornati dalle vacanze per chi le ha fatte benvenuti a questo webinar in cui parleremo di sostenibilità degli investimenti lasciamo collegare chi oggi ha avuto la bella idea di dedicarci qualche minuto del suo tempo prezioso e vi chiedo come di consueto di confermarmi che si vede si sente e che non ci sono problemi tecnici spero che abbiate fatto un buon agosto delle buone vacanze che siate tutti quanti riposati e pronti per riprendere i lavori ci prendiamo qualche minuto in realtà un minuto saluto intanto luciano naturalmente roberto vasco alfonso ernesto antonio tutti gli altri grazie anche per i riscontri che mi state dando benissimo bentornata anche a te milena grazie mille allora oggi vi faccio vi faccio subito una bella imboscata visto che parleremo di investimenti e vado subito a proporvi una domanda che ci aiuta un po capire anche come vi rapportate rispetto al tema di oggi ecco qua mi chiedo la gentilezza di rispondere sinceramente per chi si stesse collegando in questo momento quello che vedete è un piccolissimo questionario un sondaggio in realtà una domanda che mi serve per capire anche come gestire poi questa oretta scarsa che passeremo insieme e per animare un pochino dai anche la nostra chiacchierata il DSCR è utilizzato dalle banche per valutare la sostenibilità di cosa finanziamenti del capitale circolante finanziamenti degli investimenti che sarà il tema di oggi leasing finanziamenti quando però non sono garantiti oppure genericamente finanziamenti alle imprese vi lascio ancora qualche secondo per terminare le risposte intanto saluto tutti quelli che si stanno collegando che state arrivando questo mi fa molto piacere ancora un attimino dai io chiudo chiudo il sondaggio poi insomma qualcuno non è riuscito a rispondere ma condividiamo anche con chi non ha risposto gli esiti arriviamo al 70% ok chiudiamo il sondaggio benissimo condividiamo i risultati per chi ci conosce sa che questi sondaggi servono veramente per dare un po' un tocco di praticità ai nostri lavori quindi direi che avete indovinato nel senso che il DSCR serve alle banche per valutare la sostenibilità dei finanziamenti alle imprese naturalmente non è che il DSCR sia un indicatore fatto inventato oggi solo per il sistema bancario chi lavora nel mondo della finanza l'ha utilizzato anche negli anni o decenni scorsi si utilizzava tantissimo per verificare la sostenibilità degli investimenti per esempio nel mondo del project financing ma poi è stato utilizzato anche per altre finalità oggi il sistema bancario lo utilizza e tenuto ad utilizzarlo quindi la risposta corretta è l'ultima non che siano in sé sbagliate la prima e la seconda nel senso che ovviamente se vado in banca e chiedo l'apertura di un castelletto di un finanziamento import export o comunque di quello che è il working capital dell'azienda avrò anche lì un'analisi di fattibilità in questo caso della sostenibilità di quella nuova linea dedicata al breve termine è uno degli indicatori che la banca utilizza insieme poi ad un'analisi più ampia ma questo l'abbiamo detto lo diciamo in continuazione è naturalmente il DSCR gli investimenti 36% assolutamente sì a maggior ragione questa è la mia opinione credo che sia adeguato questo indicatore insieme ad altre verifiche per valutare gli investimenti però il piccolo trucco ma è passato non è veramente per animare un po' la discussione è che la risposta corretta è l'ultima in quanto è un po' onnicomprensiva io vi consiglio di utilizzarlo anche se non siete una banca ma semplicemente se siete un'azienda per verificare la sostenibilità del vostro business immaginate quello che viene fatto a livello di sostenibilità ai fini degli adeguati assetti organizzativi a livello di codice della crisi ok questo mi è chiaro quindi io vi ringrazio per questa prima interazione che a me è molto utile per il proseguo dei lavori bene a questo punto un po' il menu del giorno oggi parliamo di sostenibilità degli investimenti quindi lo faremo in relazione ad un caso reale di un'azienda e lo faremo cercando di non cadere nella trappola del tutto facile tutto teorico cosa è questa trappola? è una situazione in cui quando si fanno le simulazioni si usano sempre dei numeri piccolini che sono scollegati all'azienda si parte sempre dall'1 gennaio si usano degli scenari oversemplificati cercheremo di non fare questo tenendo conto che abbiamo un'ora da passare insieme quindi senza andare a complicarla troppo per cui bacchettatemi se vedete che vado un po' fuori tempo non credo perché ci tengo anch'io a finire in maniera puntuale siete sempre liberi di fare delle domande e quindi direi che se siete d'accordo partirei con il nostro caso che tratteremo naturalmente all'interno della piattaforma Linux chi di voi non dispone della piattaforma Linux non si deve assolutamente preoccupare perché comunque noi utilizzeremo Linux come supporto di lavoro avremmo potuto utilizzare Excel o altre piattaforme ma il mio obiettivo è trasmettere dei concetti interagire poi con voi perché questo è un master operativo che serve esattamente a questo benissimo utilizzate ancora una volta il panel delle domande se avete qualsiasi domanda da fare ecco domande più articolate fatele pure magari non vi rispondiamo immediatamente ma come sapete buona abitudine della casa poi andare a rispondere anche in differita magari così attivando un contraddittorio sempre su basi rigorosamente tecniche con chi ci ha fatto una domanda quindi se la domanda è dove metto l'ammortamento nel conto economico nel business plan del conto economico vi rispondo in diretta se la domanda è invece quali metodologie di pianificazione suggerisci di utilizzare per fare i controlli mensili chiaramente una risposta in diretta richiederebbe troppo tempo quindi poi vi rispondiamo in differita di solito siamo anche abbastanza veloci nel farlo benissimo allora di quale caso andiamo a parlare parliamo di una azienda che vediamo qua l'abbiamo chiamata l'abbiamo chiamata il nome mi si deve aggiornare quindi i dati che vediamo sono relativi ad una società vera che naturalmente abbiamo reso anonimo anonima che abbiamo chiamato azienda CAPEX 19 2024 poi io condividerò anche dei PDF che via via andremo a creare nel corso della nostra esposizione e quindi la riconoscerete perché quello è il nome in questo momento il nostro caso permette appunto una società di dimensioni medio piccole vediamo qua questo è il conto economico riclassificato dell'azienda un'azienda che opera nel settore del diciamo dell'engineering per dirla in un certo modo quindi un'azienda che sostanzialmente si occupa di servizi che utilizza dei macchinari e vedremo che il nostro investimento che andremo a simulare riguarderà appunto l'acquisto di macchinari beni strumentali alla esecuzione dell'attività aziendale un'azienda che ha un trend di crescita quindi la prima cosa che vorrei rimarcare prima ancora di passare al piatto forte che è rappresentato dalla simulazione dell'investimento e della sua sostenibilità è quello di comprendere con chi abbiamo a che fare quindi cerchiamo di capire qual è il soggetto che abbiamo di fronte nel gioco delle parti potremmo essere la banca il consulente dell'azienda l'azienda stessa il CFO qualcuno che ha sul tavolo una ipotesi di investimento che richiede un finanziamento e quindi in maniera molto prudente si pone il problema ma prima di andare in banca o prima di finanziare se sono la banca voglio capire qual è l'indice di sostenibilità qual è la sostenibilità quali sono se ci sono delle trappole nello sviluppo del business che potrebbero minare la sostenibilità di un'azienda sapete bene che il futuro non è assolutamente prevedibile chi cerca di vederlo sbaglia per definizione almeno questo capita sempre al sottoscritto e allora cercheremo di spostare l'analisi poi di sostenibilità su che cosa sulla creazione di alcuni scenari e Linux in questo ci aiuta moltissimo perché rende possibile creare degli scenari verosimili ai fronti dei quali verifico la mia sostenibilità ma è importante capire come dicevo l'azienda in partenza come si pone quindi qual è il soggetto la situazione muscolare diciamo e di salute della della nostra della nostra società allora abbiamo tanto c'è forse una domanda vediamo se una domanda di Paolo eh allora Paolo tu fai una domanda sulla sulle riba eh allora la prendo alla fine questa domanda perché è un po' articolata come risposta poi è un'opinione eh mia personale quindi la tengo lì un secondo ma l'ho vista quindi chiedo scusa agli altri proseguendo il ragionamento vediamo la situazione dell'azienda che condivido con voi e sulla quale vi invito a mandarmi i vostri commenti le vostre considerazioni poi io farò un po' da amplificatore abbiamo volutamente due esercizi non abbiamo una grande una lunga storia di questa azienda anche se l'azienda è un'azienda che è stata fondata eh diversi anni prima quindi non è un'azienda fondata nel 2022 andiamo a vedere il nostro eh report commentato che sapete è un'analisi automatica che eh Linus genera è quella che per esempio viene utilizzata per gli adeguati assetti anche a livello a livello bancario eh naturalmente allora ok allora andiamo a vedere eh cosa vi viene in mente di questa azienda questa è una sintesi i dati che abbiamo a disposizione e questo è un altro aspetto operativo sono dati che derivano dall'elaborazione di bilanci di verifica quindi i dati che abbiamo sono dei dati molto buoni perché eh se andiamo in banca a richiedere un finanziamento naturalmente eh la banca chiederà i dettagli non si accontenterà assolutamente del bilancio ufficiale poi so che c'è collegato anche l'ottimo eh Cristian Fusili che è cintura nera di banche magari poi Cristian ti solleciterò ti sfrutterò biecamente per qualche risposta più tecnica sulla sulle banche allora dicevo abbiamo una situazione di questo tipo quindi eh abbiamo una un equilibrio economico direi buono alla fine del 2023 è un'azienda che è cresciuta che ha un'ebidda eh a doppia cifra senza andare a fare troppo i sofisticati sul settore perché saperebbe una un dibattito enorme mi sento di dire che per un'azienda industriale di di ingegneria è comunque tutto sommato un un margine operativo positivo quindi partiamo da un'azienda che è in equilibrio economico ok parte economica l'abbiamo smarcata abbiamo un'azienda che è anche un basso livello di eh di indebitamento con leva finanziaria assolutamente eh accettabile poi andiamo magari a vedere i dettagli quindi anche patrimonialmente potremmo approfondire gli indici se volete lo facciamo magari indicatemelo voi eh abbiamo un interlocutore buono c'è qualche temuccio sulla parte finanziaria come qualcuno di voi sta giustamente sollevando allora prima di andare a chiedere a introdurre il business case della giornata sul eh su una richiesta di finanziamento è bene capire chi siamo noi agli occhi della banca o chi è quel signore che arriva in banca per cui qua si aprono un pochino le danze allora intanto abbiamo Antonio che mi dice non produce liquidità in effetti qua insomma eh quello che sta dicendo eh Linus è che guardate che lo ingrandisco perché magari non si vede benissimo mi sta dicendo che abbiamo un flusso di cassa operativo Linus ricostruisce il flusso di cassa gestionale partendo anche da un bilancio di verifica questo lo vediamo poi in diretta dopo ma il flusso di cassa del periodo non è stato un flusso di cassa eh molto alto anzi dire che non c'è stato un flusso di cassa ok abbiamo una discreta liquidità se rapportati ai ricavi quindi è un soggetto che si propone avendo un po' di liquidità ok ma venendo da un esercizio in cui non ne ha prodotta di liquidità per cui investimento ammortamento finanziamento cash flow che deve servire il debito per quello vi ho fatto la domanda sul DSCR per cui cosa facciamo andiamo subito a vedere la sostenibilità del piano oppure facciamo qualcos'altro e se facciamo qualcos'altro magari qualche approfondimento cosa vorreste andare a vedere quindi qua vi ingaggio io vi chiedo di guidarmi no in questa così in questo primo questo primo carotaggio Roberto dice cash flow è insufficiente Antonio dice circolante credo che non incassi Milena dovevamo capire se l'indice di rotazione è elevato se lavora su commesse lunghe questo è un buon punto lo stesso numero lo interpretiamo in maniera diversa a seconda che sia un'azienda che lavora per esempio sul magazzino piuttosto che un'azienda che lavora per commessa il pagamento dei fornitori quindi mi state dando delle indicazioni che richiedono un approfondimento del flusso di cassa ok io vi seguo e vado ad approfondire il flusso di cassa lo faccio in prima battuta utilizzando sempre questa simpatica illustrazione che mi fa Linus quindi questo è quello che mi viene proposto dal sistema in maniera automatica non è tutto naturalmente ma è un punto di partenza qua andiamo ad approfondire cosa è successo nel flusso di cassa di questa azienda per capire poi prima di fare il business plan e quindi l'analisi di sostenibilità del nuovo potenziale debito quali sono le dinamiche da tenere sott'occhio perché signori quelle dinamiche lì vanno spiegate bene alla banca in anticipo quindi nessuno si aspetta che noi produciamo migliaia di miliardi di euro di cash flow per attivo ci può anche essere l'anno storto per varie ragioni però capite bene che giocare d'anticipo e dire guarda che ti sto chiedendo un finanziamento per questo investimento se guardi l'ultimo anno è andata così ma ti spiego perché è andata così e verosimilmente è una cosa che non si ripeterà l'anno prossimo questo mi sento di dire lo dobbiamo sapere e lo dobbiamo saper spiegare con evidenze numeriche ok quindi quello che è successo è che l'azienda aveva a inizio dell'esercizio 2023 quasi un milione di cassa attiva l'attività operativa vedete che insomma è stata sostanzialmente immobile anzi ha bruciato rosicchiato un po' di cassa gli investimenti sono stati bassini devo dire quello che l'ha fatta da padrona guardate qua è stato proprio il sistema bancario quindi abbiamo restituito quasi 400 mila euro alle banche questo ci ha portato a una situazione di cassa finale che non è malvagia perché avere mezzo milione con 8 9 10 di ricavi non fa schifo potrebbe essere meglio ma non siamo in crisi di liquidità domani mattina però va capito per quale motivo siete contenti con questa spiegazione oppure vorreste che io approfondissi qualche altro aspetto magari che esplodessi qualcuna di queste barrette oppure che andassi a verificare meglio gli aspetti legati al circolante cosa dite dai guidate un pochino voi così diventa anche un po' più divertente fare questa questa operazione insieme quindi la domanda è questa è l'evoluzione della cassa avete tutti bene o male indicato che la situazione dell'azienda a fine 2023 va approfondita nel senso che la cassa prodotta non c'è stata io ho fatto una prima esplosione oppure drill down come direbbe il mio collega Fischetti che parla inglese benissimo della situazione e questo è siamo soddisfatti vogliamo vedere qualcos'altro no Roberto dice andiamo a vedere il circolante io Roberto ti seguo assolutamente quindi andiamo a vedere il circolante per farlo andiamo a vedere una uno spaccato del mio stato patrimoniale nel corso dei due esercizi dimmi se va bene Roberto vedere questo perché poi ho anche altri suggerimenti ok allora andiamo a vedere siamo e anzi una impresa insomma un circolante guardate a fine 2023 anche qua ingrandisco a un circolante di eccolo qua 4 milioni e mezzo veniva da 3 milioni a livello di crediti verso clienti aveva 1 milione e 6 di debiti è andata a 2 milioni e 2 non ha rimanenze probabilmente questo è dovuto al fatto che una società di servizi di engineering e quindi tendenzialmente non ho delle rimanenze di rilievo e quindi il circolante è passato da 1 milione e 3 a 2 milioni e 3 quello operativo focalizziamoci su questo perché è quello legato all'attività caratteristica dell'azienda quindi cosa ci aspettiamo qua magari vi do una mano io anche perché qualcuno mi sta facendo delle domande andiamo a vedere Antonio dice il cash flow finanziamenti va capito che tipo di rimborsi sono stati fatti andiamo a vedere il dettaglio patrimoniale lo stiamo facendo Milena Diego che saluto dice secondo me il focus è il rendiconto finanziario per le variazioni del circolante oh grazie Diego ti seguo quindi facciamo un ulteriore approfondimento ricordo che non stiamo divagando ma stiamo rispondendo alla domanda perché l'azienda si presenta in banca alla richiesta di un finanziamento avendo una produzione di cassa pressoché nulla e io non posso andare in banca se non rispondo a questa domanda prima ok allora andiamo a vedere come suggerisce Diego se e come si è evoluto il il flusso di cassa quindi passiamo e siamo sempre nell'analisi storica badate bene passiamo al rendiconto finanziario riclassificato in maniera gestionale diamo qualche secondo ok eccolo qua eccolo qua eccolo qua vedete la risposta a ogni nostra domanda alla nostra domanda il flusso di cassa che era quella barretta leggermente negativa è stato negativo perché c'è stato un grosso aumento dei crediti verso clienti non so questa è una società di engineering lavorerà col settore pubblico lavorerà in grandi commesse dove come sappiamo i tempi di incasso non sono proprio immediati avrà qualche strascico di covid non lo so non mi interessa andare ad approfondire adesso questo caso magari lo faremo la prossima volta dove parleremo della sostenibilità del capitale circolante del business plan legato al circolante oggi il circolante lo lasciamo fermo nel senso che andiamo a focalizzarsi sull'investimento ma se siete d'accordo abbiamo dato una risposta alla nostra domanda quindi noi abbiamo bruciato un po' di cassa perché è vero che abbiamo aumentato i debiti verso fornitori per quasi per più di mezzo milione ma questo aumento non è riuscito a compensare il l'aumento dei crediti verso clienti quindi sapete bene che quando aumenta un credito verso un cliente è un euro in meno che ho in tasca io quindi l'aumento di questo attivo mi va a determinare un assorbimento di cassa risultato meno cento novantun mila se proprio vogliamo fare l'ulteriore approfondimento ma siamo già a un quarto livello qua lo suggeriscono Rocco ma anche Alessandro andiamo a vedere se questo aumento del capitale circolante ed in particolare dei crediti è collegato all'aumento del business indirettamente se è dovuto al fatto che faccio più business al fatto che sto incassando in maniera stranamente molto più lunga i miei crediti o ho un mix delle due condizioni questo è importante da capire perché se io vedo che aumenta lo stock di crediti verso clienti in azienda ma è aumentato di pari passo anche il mio ricavo le commesse questo lo posso chiedere all'imprenditore mi preoccupo di meno rispetto alla situazione in cui vedo che il business rimane stabile o magari le vendite calano ma aumentano in maniera esponenziale i crediti verso clienti nel secondo caso mi devo preoccupare perché potrebbe significare che l'azienda ha un problema di incasso magari andrò a vedere la concentrazione dei clienti sì Antonio mi dice due bilanci sono pochi per capire la dinamica hai ragione Antonio hai ragione ma è voluta questa cosa quindi colpa mia perché voglio focalizzarmi su un'altra dinamica questo mi serviva come spunto per fare un ragionamento ok quindi facciamo quest'ultimo approfondimento abbiamo capito che è la parte operativa e in particolare l'aumento dei crediti che mi genera qualche problematica vediamo cosa caspita è successo a questa azienda dal punto di vista del conto economico che abbiamo visto così a modiflash in apertura dei nostri lavori naturalmente beh allora il primo messaggio che si evince da questa tavola che è il conto economico riclassificato dal mio punto di vista è insomma relativamente tranquillizzante perché sì è aumentato il saldo dei crediti ma guardate qua i ricavi hanno fatto da 8 milioni a 11 milioni quindi sono cresciuti di 3 milioni fondamentalmente ok e quindi insomma sono cresciuti i crediti e sono ancora fatto il calcolo a mente se sono cresciuti i crediti proporzionalmente ai ricavi lo vediamo immediatamente andando a vedere l'ultimo pezzettino che è quello che uno di voi suggeriva non ricordo chi di andare a vedere l'indice di rotazione del capitale circolante allora guardate qua vedete che i tempi di incasso dei crediti verso clienti attenzione è calcolato con una formula che come tutte le formule che agiscono su un dato esterno può essere perfezionato può essere perfezionato il dato perché io in questo momento non ho fatto il carotaggio di quali sono le vendite che sono state fatte ad esempio a clienti esteri quindi non c'è l'IVA lasciamola lì per un secondo questa questione supponiamo che siano tutti italiani e quindi guardiamo il trend il trend che è aumentato anche il tempo di incasso nei confronti dei clienti quindi c'è una doppia componente che spiega il motivo dell'insufficienza di cassa nuova prodotta nel 2023 dalla gestione caratteristica che è legato a questo punto quindi io sono andato in profondità da una visione generale ho fatto tre o quattro passaggi in maniera molto rapida molto mirata che mi permettono di dire questo questo è un po' la liaison con quello che faremo da adesso in poi cioè l'analisi vera e propria che dà il titolo anche a questa sessione del webinar ed è doppiamente importante in chiave di come dire verifica di sostenibilità degli investimenti perché alla fine un business plan focalizzato alla sostenibilità di un investimento si ha come parte centrale l'investimento e il finanziamento ma non è che è asettico è calato in un contesto aziendale quindi capite bene che io dovrò simulare un capex e una sua un suo servizio finanziario annuale mensile anche magari che dovrà fare i conti con delle ipotesi di produzione di cassa dell'azienda allora divento poco credibile se nel mio business plan ad esempio inserisco un tempo di incasso che non è più di 139 ma di 60 immaginate che il finanziamento ci risulti sostenibile a condizione che io incassi a 60 giorni dei clienti capite bene che non vado neanche a parlare con la banca in questa situazione perché mi tiro la zappa sui piedi quindi il messaggio che anche queste valutazioni che sembrano più di carattere generale perché io vi sto parlando di un dato di partenza quindi di una cosa storica non ancora prospettica sono assolutamente importanti nel quadro generale per cui ecco volevo fare questo passaggio iniziale mi dice Giacomo che scompare la mia voce ciao Giacomo se mi date per favore un riscontro nonché gli altri se scompare la mia voce se va tutto bene perché non vorrei parlare al vento ok vediamo se qualcuno mi risponde no Giacomo mi dicono tutti che la voce ok sente bene regolare quindi mi sa che mi sa che non ha non hai devi cambiare il provider amico Giacomo devi cambiare il provider internet va bene quindi andiamo avanti su questo presupposto siete d'accordo quindi possiamo andare avanti è chiaro perché abbiamo fatto questa prima parte di analisi sull'azienda posso procedere se avete qualche qualche elemento bloccante mi retta mi dici sì Giuliano mi dici sì ok mi dici sì perfetto io vado avanti allora adesso la nostra bellissima azienda deve guardare al futuro è passata l'epoca covid post covid si è completamente ripresa e come vediamo in fase di crescita però se mi occupo di engineering o di lavori comunque devo avere come fattore abilitante macchinari beni strumentali l'asfaltatrice le macchine per i cantieri le ruspe i camion delle linee di preparazione non lo so devo avere insomma degli investimenti non li ho rinnovati durante il covid quelli che ho sono vecchiotti quindi devo pensare a un qualcosa per portarli avanti allora quello che facciamo noi operativamente rispetto a questo è naturalmente andare a ragionare sulla parte di business plan all'interno dell'inus è identificata all'interno di questo modulo che molti di voi utilizzano per chi non utilizzasse dico solo che è un modulo che è stato certificato da buro veritas il che non vuol dire che tutto quello che scrivete lì è vero si avvererà perché qualcuno ha detto questa cosa no vuol dire che le formule che i requisiti tecnici che sono soddisfatti da quella parte del software rispettano un disciplinare di certificazione molto molto rigido quindi questo è importante perché insomma potete così dire che utilizzate uno strumento di un certo tipo se il business plan però è cattivo anche con lo strumento buono il business plan rimane cattivo allora come come funziona il business plan linus non muta quelle che sono le logiche di un business plan generale assolutamente no per cui le logiche sono che io ho una azienda che è caratterizzata da una sua situazione economica da una situazione patrimoniale e da una sua situazione finanziaria a livello storico questo lo vedo elaborando i bilanci elaborando i bilanci di verifica assolutamente ed è un'analisi storica ebbè la stessa cosa devo utilizzare per l'analisi prospettica quindi il mio capex il mio investimento lo andrò a inserire in uno strumento che mi fa le simulazioni cosa voglio dire voglio dire che quando noi andiamo a interagire con la piattaforma quindi inseriamo un'ipotesi la piattaforma poi ha il collegamento tra tutti i valori tutti i parametri che costituiscono i numeri di bilancio di un'azienda quindi banalmente se io facciamo un esempio per farvi capire come funziona Linus altrimenti poi non capiamo quello che verrà dopo sul caso concreto ipotizziamo che io vada ad aumentare i ricavi del 10% nel 2024 noi in questo momento siamo alla fine del 2023 e pensiamo tra quello che mi hanno detto i fornitori quello che pensiamo possa essere la mia disponibilità di caso che il periodo migliore per attivare il tutto sia più o meno verso la metà del 2024 quindi adesso siamo nel adesso prima di Natale 2023 se io ipotizzo che nel 24 farò più 10% di ricavi per darvi un'idea naturalmente il sistema recepisce questo input mi va a adattare i ricavi del mio conto economico quello che stiamo vedendo adesso è il conto economico prospettico non più storico lo schema è identico a quello storico perché diamo continuità di lettura naturalmente vedete che quello che fa il sistema passa dai miei 11 milioni di ricavi che sono un dato storico da bilancio a un dato di 12 milioni e 9 che sono il mio 10% potrei anche inserire il valore di nuovi ricavi avendone a disposizione quindi posso decidere se ragione in percentuale oppure se inserisco le principali voci dei ricavi vendite che ne so servizi settore pubblico settore privato dighe cantieri abitazioni quello che volete voi ok il sistema mi propone automaticamente una struttura prospettica dei costi variabili che io potrò accettare smentire questo poi indicato nelle varie procedure però capite bene che lui cerca sempre di darvi una proposta che abbia un minimo di senso voi avete sempre la possibilità di inserire la vostra proposta la vostra proiezione diversa da quella che fa Linus perché il futuro non riusciamo nemmeno noi ad indovinarlo e fino a qua siamo nella parte di conto economico vedete che i costi che sono stati classificati all'inizio come costi variabili vengono fatti variare in proporzione i costi che sono stati classificati come costi fissi rimangono fissi quindi anche questa gestione diventa molto molto importante cosa c'entra questo con l'investimento c'entra moltissimo perché una volta che io capisco capisco queste logiche di interazione matematico finanziare che poi sono dettate dal buon senso cioè perché queste cose le faremo magari con un po' più di difficoltà su Excel io ci ho lavorato con Alessandro per insomma un po' di anni avevamo degli Excel enormi e il problema lì era poi aggiornare le formule aggiornare i dati di partenza questo è il problema principale dell'Excel oltre che l'errore in questo caso fa tutto lui fa tutto lui e verifica sempre poi la quadratura naturalmente dei miei conti quindi diciamo che dietro il business plan questo è un altro messaggio c'è un ragionamento in partita doppia altrimenti non sarebbe corretto il business plan quindi vedete che ho aumentato i ricavi però questa è la parte economica ma abbiamo detto che c'è un collegamento con la parte patrimoniale e con la parte finanziaria allora andiamo a vedere cosa è successo per quanto riguarda la parte la mia parte patrimoniale quindi andiamo ad attivare lo stato patrimoniale prospettico vedete qua il mio punto di partenza il mio dicembre 2023 ok questi erano i miei crediti verso clienti di partenza questo è un dato storico reale questo era il mio tempo medio di incasso da clienti di cui abbiamo parlato per esteso fino a questo momento il sistema cosa fa utilizza lo stesso tempo di incasso storico l'ultimo disponibile per andare a stimare anzi a calcolare quello che sarebbe il mio saldo crediti clienti a fine 2004 che per me è futuro se si verificasse la condizione hai fatto più 10% di ricavi la risposta è che avremmo un saldo crediti finale pari a 4 milioni e 980 mila euro naturalmente il sistema mi propone anche un riproporzionamento che abbia senso rispetto al dato storico che uso come modello dei debiti verso fornitori e delle rimanenze che sostanzialmente non c'erano fondamentalmente quindi vedete che sono aumentati sia i crediti clienti che i debiti fornitori il saldo che aumenta il mio capitale circolante quindi io so che un aumento del 10% dei ricavi data questa struttura del capitale circolante dei tempi di incasso eccetera 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 ho un determinato aumento del mio capitale circolante perché vi sto parlando di capitale circolante se noi adesso andremo ad inserire l'ipotesi di finanziamento di un cespite di un investimento me lo dite voi per favore per quale motivo stiamo ancora divagando no ne ha culpa sul capitale circolante quando invece il titolo di oggi era la fattibilità e sostenibilità degli investimenti vediamo se siete ancora lì se qualcuno osa una risposta ah Giuliano grazie perché aumentano i crediti Sergio per verificare la produzione di cassa a servizio del debito Antonio servizio cassa assolutamente giusto e quindi passiamo al terzo incomodo che è il rendiconto finanziario quindi conto economico stato patrimoniale rendiconto finanziario vediamo il rendiconto finanziario prospettico non indovinato previsto sono parole vietate in Linus ma collegato alle ipotesi che io ho fatto sul conto economico e sullo stato patrimoniale in questo caso il mio rendiconto finanziario prospettico mi dice che brucerò un sacco di cassa mezzo milione per l'aumento delle vendite con gli stessi tempi di incasso ok ma che comunque la redditività che io produco è tale per cui avrò ceteris paribus perché non ho inserito altre ipotesi non ho inserito costi per assunzione di personale nuovo che magari avrò bisogno per come dire governare i nuovi macchinari questi non li ho ancora non li ho ancora messi ma a bocce ferme guardando solo la parte circolante io ho un flusso di cassa operativo di quasi 800 mila euro ok questo come qualcuno di voi ha giustamente fatto notare mi andrà a influenzare il calcolo del DSCR quindi è come se collegato alla fattibilità di un investimento e alla sostenibilità di un finanziamento ok per cui attenzione non perdiamo mai nel nostro modello il focus sull'andamento generale anche perché anche perché e questo vale per la banca per gli adeguati assetti per il buon senso di chi si occupa poi di finanza come immagino ve ne occupiate voi non tutte le aziende reagiscono allo stesso modo degli scenari cioè si parla molto spesso di analisi del rischio allora immaginiamo che questa azienda ottenga delle nuove commesse da una multinazionale e vada in banca dicendo guarda che io ho bisogno di un milione per comprare nuovi macchinari perché ho per cinque anni dei cantieri garantiti dalla Coca Cola Company che deve aprire gli stabilimenti in Italia e ha chiesto mai di costruirli sto inventando di sana pianta secondo voi la banca in un'azienda di questo tipo dove va a focalizzare l'analisi del rischio cioè voi portatela a un piano che dice che è sostenibile ok perché vi fa aumentare gli utili scusate le marginalità operative nel conto economico e anche col capitale circolante che avete tutto sommato sta in piedi supponiamo che il DSCR vada bene sia largamente positivo la banca fa però un'analisi del rischio in una realtà del genere dove andreste a fare l'analisi del rischio sui ricavi quindi simulate che i ricavi anziché essere più 5 milioni siano più 2 milioni oppure più 3 milioni oppure più milioni o fate un'analisi del rischio in questo caso che avevo detto su qualche altra variabile dove andreste a fare l'analisi del rischio in un'azienda di questo tipo Milena dice sull'analisi del portafoglio clienti SNI nel senso che sicuramente sono importanti i clienti ma se io ho un'azienda che ha un contratto con la Coca-Cola Company un contratto quinquennale e me lo spiattella sulla scrivania quando viene in banca può fallire la Coca-Cola Company va bene c'è il rischio cliente va bene però a quel punto lì capite bene che abbiamo finito no verremo tutti la fanta in realtà il rischio principale di un'azienda del genere è il capitale circolante immaginate che la Coca-Cola Company paghi perché io non ho dubbi che alla fine paga insomma penso che sia una tripla adesso non conosco il rating della Coca-Cola Company magari sbaglio ma tutto sommato mi sembra un cliente abbastanza abbastanza attendibile però proprio perché ha un forte potere contrattuale sa perfettamente di avere in mano gran parte del mio business dei prossimi cinque anni perché ha fatto un contratto pluriennale di ingegneri di costruzione magari mi strizza un attimino sui tempi di pagamento e queste aziende tendono a utilizzare i fornitori più piccoli come finanziatori che non è uguale a fornitori e allora torniamo alla peculiarità e l'importanza di capire il profilo di chi stiamo parlando dell'azienda che stiamo analizzando perché se io sono uno che ha un circolante molto grande dei tempi di incasso molto lunghi sapete cosa vi dico andiamo a vedere il nostro il nostro piano andiamo un secondo solo eccolo qua il nostro piano non lo andiamo a cambiare dove lo andiamo a stressare ai fini dell'analisi del rischio molto semplice molto semplice guardiamo qua abbiamo 4 milioni e 5 di crediti verso cliente 4,980 è quello finale 139 i tempi di incasso questo mi genera e volutamente apro e spero di non confondervi un po' di come dire un po' di fogli di lavoro lo scenario che stiamo ipotizzando mi genera un flusso di cassa no ho sbagliato io Christian non infiarire per favore perché poi me le rinfacciano tutti questi passaggi vuoto che faccio eccolo qua questo scenario mi genera un flusso di cassa di 787 mila euro cosa succede se la Coca Cola compa invece anziché 139 vi faccio andare a 149 cosa vuoi che siano 10 giorni andiamo a vedere l'impatto sui flussi di cassa cioè eccolo qua guardate i giorni 80 mila euro 70 mila euro quindi io devo fare molta attenzione alla dinamica del capitale circolante ok quindi il rischio la banca qua lo andrà a fare soprattutto sull'analisi circolante quindi facciamo attenzione nel non farci prendere in castagna intanto vedo qualche domanda e poi andiamo veramente a simulare il caso quindi sì rispetto alla domanda di prima cosa devo guardare la struttura dei costi la valutazione del cliente potenziale Antonio sì ma con queste con queste caratteristiche che abbiamo detto adesso cioè guardiamo soprattutto che condizioni di non di pagamento mi propone l'andamento dei crediti Rocco giusto abbiamo appena visto tempi di incasso giusto tempi di incasso Antonio dice di solito le grandi imprese prima di affidare le commesse valutano a fondo il fornitore assolutamente sì assolutamente sì addirittura quelle più avvedute valutano noi lavoriamo con tante di queste aziende veniamo utilizzati lato procurement valutano la sostenibilità di una loro proposta a fronte del fornitore perché il fornitore soprattutto se piccolo tende a dire sempre sì la faccio questa cosa e invece loro giocano un po' di anticipo Cristian sei una pessima persona Sergio mi dice l'azienda potrebbe utilizzare anticipo fatture e factoring per migliorare il DSO sì ecco poi queste sono attività specifiche di tesoreria di gestione della cassa assolutamente sì oggi non andiamo a toccare così a fondo magari la prossima volta sì modificando mi chiede Fabio modificando il rendiconto finanziario è modificato anche lo stato patrimonale no andando a modificare il conto economico e lo stato patrimoniale abbiamo un impatto sul rendiconto finanziario posso fare delle modifiche al rendiconto finanziario qua per una piccola parentesi che magari è sottesa alla domanda di Fabio ti ricordi quando ci sono state le rivalutazioni nell'anno del covid in quell'anno lì sono state fatte rivalutazioni che il sistema linus ma qualsiasi sistema che leggesse dei dati pubblici quindi non dati interni dell'azienda leggeva se l'azienda aveva rivalutato gli immobili per rivalutare il patrimonio ok io avevo un milione di patrimonio iniziale pre-covid faccio la rivalutazione e senza aver comprato nulla quindi zero esborso di cash arrivo a due milioni in quel caso il sistema in prima battuta correttamente ti fa vedere che il patrimonio è di due milioni e che le immobilizzazioni sono di due milioni devi fare però un intervento sul rendiconto finanziario perché non c'è stato un capex quindi un esborso di cassa finalizzato all'investimento quindi puoi arrivare a questo tipo di gestione poi se hai altre domande approfondimenti su questo volentieri andiamo a fondo io mi fermo qua perché vedo che mi fate tante domande sull'invoice trading su tutta una serie di modalità tecniche per ottimizzare la tesoreria che vanno benissimo io volevo andare invece su come andare a simulare il nostro benedetto investimento quindi se avete questo tipo di interesse scrivete pure non vi rispondo adesso su questo ma io o qualcun altro vi risponderà sulla parte tecnica legata al circolante io vado in questo momento invece sull'investimento allora andiamo sul nostro investimento quindi da dove partiamo chiudiamo un po' di fogli che generano confusione ok partiamo da qua direi quindi partiamo da una situazione in cui abbiamo visto l'analisi storica e adesso andiamo a vedere io il business plan lo faccio a breve ma anche questa è una scelta Linux vi consente di assolutamente di scegliere gli esercizi periodi preferisco chiamarli periodi perché si può anche fare poi mensilizzato rispetto ai quali fare la proiezione ok quindi vedete che si parte dal conto economico questo è quello che consiglio suggerisco io di fare naturalmente abbiamo sempre l'ultimo periodo e adesso noi per semplicità partiamo dal 31-12 poi vi faccio vedere come invece visto che l'investimento è ipotizzato da maggio partiamo da un mese infrannuale perché non siamo mai a cavallo d'anno siamo sempre nel corso dell'anno quindi almeno 363 giorni su 365 quindi io per forza devo partire da lì uso questo per farvi capire la logica e poi switchiamo su una view più mensile allora qual è l'investimento che noi dobbiamo fare dobbiamo fare un investimento fatto in questo modo questo è figlio di una valutazione tecnica che viene fatta in azienda che non è ancora ricevuto il placet da parte del direttore finanziario che è colui il quale ha l'onere ahimè di verificare se è bancabile se ha senso allora abbiamo da acquisire cespite o cespiti per un milione quindi questo è il valore del nostro investimento che hanno lo scriviamo adesso una vita utile indovinate un po' di ben dieci anni non di dieci euro quindi vita utile di dieci anni dal punto di vista operativo potrebbe essere quindici venti dipende dal cespite qua la faccio veramente facile a fronte di questo abbiamo così in mente di siccome prevediamo anche di fare parecchi utili nei prossimi anni abbiamo in mente di chiedere un finanziamento che abbia una durata inferiore rispetto alla vita utile del nostro bene quindi già ci poniamo in una situazione di verificare la fattibilità di un investimento che dura di più rispetto al finanziamento in modo tale che avrò un impatto fiscale positivo all'inizio e poi dovrebbe essere grasso che cola come dice qualcuno anche se non è sempre così vantaggio che il finanziamento è più breve e il debito lo estingo prima naturalmente tipologia di piano anche qua un ammortamento con un piano alla francese quindi a rate costanti io ho buttato lì un interesse questo l'ho fatto veramente pochi minuti fa del 3% 72 mesi quindi questo è il piano d'ammortamento che il vostro direttore finanziario insieme al direttore tecnico elabora e dice guarda potrebbe essere una cosa di questo tipo poi la banca lo cambia applica un interesse diverso però il primo acchitto la mia sostenibilità la vado a verificare su questo tipo di struttura quindi noi abbiamo il compito di andare a vedere come reagisce la nostra azienda Alfonso mi dice sei da me molto ottimista con il tasso beh dai siamo appena tornati dalle vacanze consentimelo Alfonso no naturalmente i tassi sono sono un filino un filino più alti ok Giuliano mi dice l'importante che il maggiore il margine del maggior fatturato porta anche un buon margine è vero è vero è vero vi vedo riposati anzi belli belli tosti oggi assolutamente mi fa piacere quindi ho questi numeri in testa io li tengo lì perché ho due monito e devo iniziare a creare il mio scenario li tolgo un secondo ma all'occorrenza li rimetto sullo schermo io ce li ho su un altro monito quindi in questo caso il mio obiettivo come ragionerei io sarebbe non tocchiamo per il momento la parte economica perché abbiamo detto che a fronte di maggiori investimenti avrò bisogno probabilmente di maggiori operatori che ne so consumerò più energia avrò una serie di ipotesi perché l'investimento non è che è in una gabbia settica all'interno dell'azienda no è in un contesto e l'investimento viene condizionato ma a sua volta condiziona il mio contesto quindi il mio obiettivo principale è capire a bocce ferme qual è il fabbisogno che mi genera l'investimento ok quindi spero che siate d'accordo con me io inizierei a ragionare in questo modo allora come faccio a inserire un nuovo investimento all'interno di Linus per chi non ha Linus lo ridico come faccio dal punto di vista logico no a a fare questo compito no a a fare questo calcolo naturalmente devo andare ad aggiungere l'investimento ipotizziamo che venga fatto a maggio del 2024 maggio giugno 2024 questo è un investimento perché il fornitore ha i suoi tempi no di consegna l'ho sentito dei preventivi eccetera 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 approvati no salvo condizione che poi la banca mi finanzi quindi tipica no business che insomma di tutti i giorni togliamo il peggioramento dei tempi di incasso da clienti quindi la prima cosa che faccio è questa io mi vado a tenere per semplicità di lettura anche con voi aperti che cosa un conto economico prospettico lo stato patrimoniale e anche qua come abbiamo fatto prima mi vado a riaprire il mio rendi conto finanziario prospettico questo è un modo di lavorare che piace a me ma magari voi siete contenti tenendo aperto un foglio di lavoro solamente e non tutti gli altri ok quindi cosa vedo innanzitutto come situazione di partenza e mi vorrei focalizzare sulla partenza della parte che ci interessa abbiamo detto che la nostra fonte dati cos'è è un piano dei conti qual'è la peculiarità di un piano dei conti un bilancio di verifica è che nel bilancio di verifica a differenza del bilancio civilistico io non ho il valore netto delle mie immobilizzazioni ma ho il valore lordo così come ho il valore del fondo ammortamento quindi il primo messaggio che voi potete gestire il vostro piano o decidendo di lavorare su delle immobilizzazioni di partenza nette oppure se siete più comodi lavorare mantenendo separati il valore di carico storico quindi lordo delle immobilizzazioni e avere invece un fondo ammortamento che via via si evolve la differenza darà sempre un importo netto che è quello che visualizzerete in questa linea quindi perché il sistema funziona così perché torno a dire io potrei dover fare simulazioni di questo tipo avendo come input in quel momento il bilancio civilistico e allora il mio fondo ammortamenti verrà fuori zero ma come spiega la nota non perché è zero viene fuori zero perché la mia fonte dati non me lo evidenzia a parte teniamo conto proprio della mutevolezza dei dati che io devo andare ad elaborare per fare un piano allora la prima cosa che andiamo a fare e qua c'è un'altra variabile è inserire il nostro milione posso ragionare su due livelli il primo livello siccome ho a fine duemilaventitré immobilizzazioni per un milione seicentosettanta con il loro loro fondo di ammortamento che vedete va avanti non ho inserito niente ma Linus sulla base del dato storico mi propone uno sviluppo ulteriore degli ammortamenti anche se io non ho inserito ancora nulla quindi potrò o ragionare su questo se voglio fare un calcolo veloce quick and dirty come dice qualcuno naturalmente devo inserire i saldi poi vi verrà mandata la procedura per l'utilizzo del modulo di business planning che richiede nella parte patrimoniale l'inserimento di saldi anche nella parte finanziale come vediamo fa un po' quindi vedete cosa è successo io ho aggiunto il mio milione di investimento e vedete che automaticamente Linus e l'obbedienza in giallo sono stati modificati anche anche il fondo ammortamento questa è una proposta che vi fa lui se voi andaste sul conto economico e inseriste invece un un ammortamento una quota di ammortamento diversa perché avete in mente una quota diversa naturalmente lui dopo che l'avrete inserita andrà ad aggiornare anche la parte patrimoniale perché come vi ho detto prima economico patrimoniale e finanziario sono collegati in real time l'altra cosa che potete fare io faccio così adesso è questa invece quindi togliamolo da qua ok e andiamo a usare le mitiche note di dettaglio quindi se entriamo qua dentro ho la possibilità di dettagliare macchinario 1 macchinario 2 cespite 3 linea 4 eccetera 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 addirittura ho la possibilità di differenziare quello che già c'era prima con quello che arriva da adesso in poi quindi io la faccio anche qua molto facile ok mettiamo old capex quindi quello vecchio che c'era già prima a fine 2023 questo è il mio prima era un milione 670 002 ok invece io metto tutti insieme non sto a dire ruspa ruspetta perché poi christian mi massacra che è già abbastanza insolente ultimamente quindi andiamo a inserire il nostro milione perfetto quindi avrò raggiunto lo stesso risultato che abbiamo visto qualche secondo fa semplicemente avrò sempre disponibile anche il dettaglio l'analisi è un processo quindi il mio consiglio è di fare così solo se magari inserendo i numeri grossi inizialmente vediamo che sa di buono che ha senso investirci del tempo ma se vediamo che mettendo il totalone non sta in piedi niente è inutile che sto a perdere un'ora a scrivere tutti i cespiti dell'azienda e il loro ammortamento ok no allora Cristina mi chiede non c'è la possibilità di fare una tabella con i cespiti e relative ai liquidi di ammortamento allora quello che non puoi fare è inserire ai liquidi di ammortamento ma col sistema che ho fatto vedere adesso può assolutamente differenziare i cespiti e quindi il valore assoluto nella pratica i commercialisti o i CFO che usano l'inus cosa fanno? hanno sempre un foglio Excel d'appoggio questo l'abbiamo visto nel corso sugli adeguati assetti perché funziona così e lì dentro hanno i piani di ammortamento i leasing hanno un po' tutto lì hanno il calcolo e semplicemente poi se vogliono differenziare anche su l'inus i dettagli si vanno ad inserire il saldo che copiano e incollano da Excel quindi questo è quello che viene viene fatto all'interno all'interno di l'inus quindi Miret dice il dettaglio sarà da inserire successivamente no il dettaglio io l'ho inserito in questo momento se voglio se per dettaglio intendi il dettaglio dei singoli certi immaginiamo che ci siano che sia un finanziamento per investire e comprare 12 macchine di lavoro 12 macchine per scavatrici che ne so io io non sto qua adesso io farei così se fosse il finanziario in questo momento non mi interessa inserire ai fini della fattibilità finanziaria il dettaglio delle macchine mi interessa inserire il valore giusto se sta in piedi il piano a quel punto lo devo presentare posso inserire tranquillamente il dettaglio ma a quel punto lo faccio in maniera in maniera molto come dire molto mirata e molto veloce ok quindi ho inserito il finanziamento scusate l'investimento immaginiamo che ci sia una bellissima IVA che generalmente c'è mettiamo un come dire un 22% però l'IVA del 22% dove che ce l'ho? ce l'ho sul mio milione allora all'interno dello schema di riclassificazione Linus vi ricordo che Linus riclassifica i dati di partenza e la vostra simulazione tiene conto di questa riclassificazione quindi se io volessi vedere la riclassificazione ad esempio della voce altri crediti a breve e vi cito questa perché è qua che inserirei il credito io pago l'IVA ma maturo seduta stante un credito di 220 mila euro io vado a vedere cosa c'è qua dentro sul dato storico quindi vedete che mi si apre una finestra che mi dice guarda Stefano che tu sul dato storico qua dentro avevi a fine 2023 160 mila euro di crediti tributari un altro migliaio sempre di crediti tributari poi avevi altri crediti e poi avevi 40 mila di rati e risconti attivi questa è la mia situazione di partenza che poi andrà come dire integrata riannodata con l'investimento che vado a fare benissimo come faccio operativamente anche qua vale la regola precedente quindi posso andare semplicemente ad inserire un totale che sarà il totale di 208 mila e 365 che era il totale di partenza delle poste che abbiamo appena visto più 220 mila euro di IVA che sono l'IVA su quel milione nuovo di investimento che ho pagato al fornitore oppure posso fare un ragionamento diverso che in questo caso io ho preparato quindi è un inserimento che lui non mi sta guardando perché l'ho salvato in uno scenario però fondamentalmente quello che posso fare è esattamente questo quindi andare ad inserire vedete i crediti tributari vecchi che era in 162 mila euro gli altri crediti vecchi i rati risconti e poi separare crediti IVA nuovi 220 mila euro ok questa è l'ipotesi che come dire che posso assolutamente andare a fare nel momento in cui faccio questa ipotesi poi all'interno del mio campo di lavoro mi si attiva mi si attiva come dire tutta la la parte relativa all'IVA ok attenzione IVA a credito è aumentato un credito automaticamente il mio rendiconto finanziario ne tiene conto quindi poi lo attivo e vi faccio vedere anche perché le poste da inserire sono l'investimento l'IVA eventuale sull'investimento io sto ipotizzando una contestualità tra finanziamento e operazione può anche essere che io prima paghi i fornitori o comunque che faccia l'acquisto dei fornitori e che il finanziamento decide di aprire magari dopo 3-4 mesi in quel caso dovrò andare ad aumentare i debiti verso fornitori ok io la sto semplificando ipotizzando una contestualità quindi lo scenario qualunque esso sia lo potete andare a simulare naturalmente all'interno della piattaforma cosa mi manca mi manca naturalmente e torno a prendere l'excel e non mi dite che non avete un excel così mi manca il mio piano di ammortamento quindi abbiamo detto che abbiamo 72 rate metodo francese rata mensile addirittura mi interessa al mese non è casuale non voglio lavorare sull'anno 12.155 ho fatto il mio compitino il mio piano di ammortamento e ho inserito che cosa in verde alla fine di ciascun esercizio la quota residua di capitale che mi rimane sull'investimento ok quindi non dovrò far altro che andare a prendere 718.046 che è il mio capitale residuo a fine 2024 quindi rate anticipate 1.125 592.000 che è il mio capitale residuo a fine 2025 e così facendo andrò ad inserirmi le mie quote residue il mio saldo di finanziamento residuo che abbiamo detto sarà 6 anni ok a questo punto avrò inserito il CAPEX l'IVA il finanziamento e poi ho un'altra variabile sempre legata alla singola operazione che sono che cosa gli interessi gli interessi gli interessi cosa facciamo Linus ci sta dicendo che questa azienda aveva dato storico mezzo milione di fattura scusate di debito a breve termine a fine 2023 ok se non gli dico niente lui mantiene il debito a breve lasciamo per adesso così perché abbiamo detto che le ipotesi sul circolante le facciamo dopo quando parliamo del business quando capiamo il fabbisogno poi di questo nuovo investimento che è l'oggetto della tradizione di oggi e qua dentro inserire il mio debito ok a questo punto io ho fatto l'imputazione manuale che posso andare a salvare in uno scenario ok lo scenario che sto richiamando adesso non è che l'ho creato una settimana fa e ha richiesto un'ora di lavoro no si crea in due secondi ok poi facciamo vedere come se ne crea un altro sono tre voci ho detto faccio già lo scenario così vi faccio vedere abbiamo le nostre mobilizzazioni materiali quindi scenario vuol dire dal punto di vista linus una combinazione di parametri che vengono inseriti dall'utente ne posso creare diversi quando io switcho da un scenario all'altro naturalmente linus disapplicherà e applicherà tutto il combinato di quei parametri e quindi se il mio parametro di lettura è il dscr io in tempo reale vedo come uno scenario complesso soddisfa o meno il dscr piuttosto che un altro tipo di scenario lo faccio un po' meglio perché mi rendo conto che non è immediato per chi non ha non ha linus abbiamo un saldo credit a breve di 428 da dove viene fuori l'abbiamo visto prima e vediamolo tributari vecchi 162 alti crediti vecchi 4.900 ratti risconti di inizio periodo di 40.566 non ho ipotizzato una variazione di questa voce potrebbe essere cambiata io in questo momento non ho elementi per dire quanti saranno i ratti risconti di fine 2024 quindi deciso di lasciare quelli iniziali ma potrei cambiarle naturalmente questo invece è relativo all'iva sul nuovo investimento 220.000 euro di credito iva e questa volta concorre a formarmi il totale dei miei nuovi crediti a breve fermiamoci un secondo prima di passare alla parte finanziaria vediamo il rendiconto finanziario andiamo a fare un aggiornamento perché l'avevo caricato prima di fare tutti i miei giochini e le mie ipotesi di lavoro vediamo se stiamo operando in maniera corretta allora le vado a vedere cosa noto vedete qua la voce altri crediti ok è andata giù di 220.000 euro quindi questo è l'iva per cui io ho ipotizzato di mantenere tutto il resto uguale ho sbagliato di un decimale nel copiare i numeri no darebbe 220.000 euro però passate regalate l'euro lo carichiamo a Cristian Fusili però quello che è successo è che quel credito iva è aumentato ok e quindi e quindi io questo credito aumentando il credito dal punto di vista della cassa è un impatto negativo sul sul mio flusso di cassa ok quindi vedete che sembra che la parte economica partimoniale finanziaria torni ok vediamo la parte relativa al finanziamento qua vi devo dire una cosa se voi non inserite alcune ipotesi io ho inserito un piano di ammortamento di un finanziamento nuovo a sei anni quindi quelli che vedete qua 718.046 592 cosa sono ve lo ripropongo per massima chiarezza naturalmente sono lo vedete qua il mio saldo a fine 2024 secondo il piano di ammortamento di quel singolo finanziamento ne posso mettere tanti anticipo una domanda ma quanti finanziamenti quelli che hai puoi inserire ok questo è il saldo a fine 2025 e via discorrendo non devo fare altro che inserire quei numeri e lavorando sul saldo l'Inus aggiungerà naturalmente la situazione patrimoniale benissimo e terrà conto di questo specifico piano di ammortamento non di altri ok ma gli interessi naturalmente non è gratuito il finanziamento perché se no oltre che accusarmi di essere ottimista sul tasso mi dicono che sono folle perché ipotizzano che addirittura la banca si dimentica di caricarmi gli interessi no banca ahimè non se ne dimentica mai giustamente di caricare gli interessi quindi la parte relativa agli interessi viene gestita da dove viene gestita nella mia gestione finanziaria vedete qua questa gestione finanziaria quindi gestione finanziaria non totale degli interessi da dove viene torniamo sul dato di partenza 12 2023 io ho una gestione finanziaria complessiva fatta da proventi e oneri finanziari di 32.613 euro ok quindi questa gestione finanziaria deriva dalla elaborazione che viene fatto da linus per quanto riguarda il mio piano dei conti naturalmente ok adesso ho aggiornato la pagina vedete che è peggiorata nel 2024 perché è peggiorata andiamo con ordine allora io intanto sono sono partito faccio un salto nel dato contabile quello che vedete è un il mio bilancio di verifica anni 2022 e 2023 quelli che sto quelli che sto vedendo naturalmente e quindi vediamo che io a livello storico qui nel 2023 avevo oneri finanziari per 63.736 e interessi attivi quindi proventi finanziari per 31.123 31.123 questo tra l'altro è l'elaborazione di un mastrino della soluzione gestionale team system quindi linus riconosce automaticamente la maggior parte dei dati contabili gestionali e fa questo lavoro di riclassificazione in maniera automatica quasi sempre non sempre ma quasi sempre oneri finanziari per 63 vuol dire che il mio punto di partenza del 2023 dove si deve andare a inserire il mio business plan analisi di fattibilità è di 32.613 come fanno a diventare 400 scusate 48.000 euro e 891 e beh diventano così perché linus mi fa anche una stima applicando i tassi di interesse storici di che cosa del mio come dire sui saldi del mio debito finanziario e così per forza no se io ho degli interessi diversi posso inserire i miei interessi e quindi potete giocare in maniera assolutamente libera da questo punto di vista però l'importante è che lui vedete io ho un picco di gestione finanziaria nel 2025 perché perché il finanziamento l'ho attivato nel 2024 ok quindi qua si va a sommare con il finanziamento per questo raggiunge il suo importo massimo vediamo se è vero dallo stato patrimoniale che andiamo a chiudere in questo modo ok vedete qua quindi lui va giù nell'attivo a metà 24 quindi gli interessi nel 2025 poi vanno vanno a decrescere quindi capite bene che io a questo punto ho tutti ho inserito tutti gli elementi del nostro del nostro piano quindi torno a dire investimento il capex l'iva il l'ammortamento del mio mutuo a 6 anni e gli interessi non tocco volutamente il resto e vado a vedere il mio flusso di cassa previsionali ok quindi flusso di cassa previsionale lo chiudiamo così lo vediamo in maniera più nitida cosa mi sta dicendo mi sta dicendo che questo piano e non ho ancora aggiunto eventuali costi in più quindi prendete per favore questo con beneficio di inventario però è un piano che mi produce un flusso di cassa operativa estremamente positivo e questo è una buona notizia naturalmente ho un impatto sul circolante sull'altro circolante quindi su quello relativo all'iva di 220 mila euro poi c'è un momento in cui la incasso quest'iva qua io non ho messo variazioni della gestione tributare che va naturalmente inserita all'interno di Linux però ho lasciato solo quella gestione tributaria direttamente legata all'investimento che è l'iva che io devo andare a che ho pagato anticipato al fornitore e di cui sarò a credito naturalmente ok qua vediamo il mio investimento pago un milione al mio fornitore e qua vediamo l'andamento dei debiti finanziari quindi mi finanzio per 718 mila euro con complessivamente questo con il sistema bancario che poi inizio a pagare naturalmente perché la quota è crescente è crescente perché essendo un ammortamento la francese diciamo la componente interessi mano a mano che vado avanti si riduce quindi aumenta la componente capitale che è quella che vediamo qua a parità di rata quindi questo è il mio piano è sostenibile? questa è la domanda che faccio a voi vi piace come piano? volete vedere qualcos'altro? cosa fareste? perché è un po' il punto di di atterraggio quindi se questi fossero i numeri mi verrebbe da dire che un piano con un finanziamento di quel tipo a fronte di un investimento di un milione tutto sommato non è brutto vogliamo andare a fare un'analisi ancora più sofisticata perché all'inizio di questa sessione che ho sforato ma adesso abbiamo terminato abbiamo parlato di DSCR punto di caduta finale qual è? è questo cioè che noi possiamo andare a vedere la sostenibilità anche con degli indici specifici anticipando di fatto quello che vedrebbe il nostro sistema bancario la nostra banca quindi andiamo a attivare io non mi soffermo sul come si fa a fleggare perché poi ci sono le istruzioni web mi soffermo sulla sostanza in questo momento perché uno che non ha Linux con una sessione impara a usarlo una sessione e mezzo come lo sto facendo io sulla parte di business plan andiamo a vedere che cosa il nostro DSCR prendiamone uno e allora guardate qua il mio DSCR prospettico quindi guardiamo quello vediamo le date ok quindi 2024 dal 2024 in avanti è in area assolutamente positiva avete diverse modalità con cui viene calcolato DSCR attenzione c'è quello che tiene conto solo dei debiti finanziari questo è quello un pochino più rigido perché confronta il flusso di cassa operativo con i debiti finanziari fa finta di non vedere se avete un miliardo di cassa sul conto corrente poi c'è anche il DSCR che invece dice no aspetta magari nei primi anni con la cassa operativa non riescono a pagare tutto chi fa bisogno finanziario a servire il debito come si dice in gergo ma hanno così tanta cassa che si possono autofinanziare per parecchio quindi avete qua diverse modalità per andare a guardare il DSCR quello al netto della gestione fiscale all'ordo della gestione fiscale cioè ce ne sono tantissime queste le potete poi esportare in Excel fare ulteriori elucubrazioni oppure potete anche andare a presentare alla banca oppure al CFO o all'imprenditore prima di andare in banca insomma il caso lo lascio scegliere a voi la stessa analisi che abbiamo attivato all'inizio di questa chiacchierata dove però Linus aggiorna in tempo reale è quello che viene presentato con le ipotesi di lavoro che vengono fatte quindi la parte storica non muterà assolutamente ma se ho fatto bene i miei compiti viene a modificarsi la parte ok lo ingrandisco perché diventa altrimenti difficile da leggere chiedo venia un po' di pazienza questa è una presentazione non siamo più nel software siamo in una presentazione che è stata generata da software guardate i finanziamenti vedete sono esattamente l'ipotesi che abbiamo inserito noi ok guardate il rendiconto finanziario anche in presentazione abbiamo quello che abbiamo inserito addirittura e qua vi lascio spero che questo vi piaccia addirittura anticipiamo quello che la banca fa sicuramente sicuramente cioè stressare il nostro piano come perché sui numeri del business plan ok lui vi calcola una serie di possibili stress di possibili cose che magari non vanno esattamente nel verso giusto diciamo e guardiamo la partita del 2024 vi dice guarda che nella situazione del 2024 che è l'anno di partenza se avessi una variazione se aumentasse il parametro tempi di incasso da clienti di oltre 27 giorni questo mi andrebbe ad azzerare la liquidità disponibile quindi attenzione perché sono ipotesi di lavoro isolate l'una dall'altra poi se le voglio combinare devo andare a complicarle il mio scenario però è molto comodo averlo in presentazione perché sta diciamo dicendo che questa ipotesi di finanziamento di 800 mila euro su un milione di investimento con i flussi di cassa che prevedo in questo momento ha anche un discreto grado di resistenza degli scenari potenzialmente avversi che vengono calcolati sul circolante sulla variazione dei ricavi su altri parametri poi sicuramente la banca vi chiederà l'ennesimo scenario l'ennesima prova che non rientra fra quelle che sono qua riportate automaticamente e lì vedrete buono soddisfazione andando a simulare direttamente all'interno della piattaforma quello scenario ok l'ultimo elemento che desidero darvi mi scuso che ho sforato di sette minuti saranno dieci alla fine quindi questo io ve lo mando chiedo alla collega Castellani poi di assicurarsi che pervenga questo pdf questo report io sto facendo un pdf in questo momento ci sono altre modalità di stampa se non sto qua farvele vedere ok le andiamo a fare benissimo dicevo all'inizio ho condiviso un punto che non vorrei passasse per insomma la tipica frase che si dice poi tanto la lascio lì no e cioè che avremmo ragionato su dati annuali perché mi era più semplice per cercare di trasmettervi le logiche con cui ragiona la piattaforma però abbiamo detto che eravamo a Natale 2023 ipotizziamo di fare investimento a maggio 2024 adesso arriva maggio 2024 ok quindi non vi faccio tutto il pippozzo ancora state tranquilli faccio semplicemente vedere un passaggio che diventa molto utile quantomeno vedere che è fattibile quello che vedete adesso cos'è qua abbiamo il 2023 ma questo è già un dato che abbiamo importato in Linux sono passati i mesi qua abbiamo il saldo del nostro bilancio di verifica team system ma potrebbe essere zucchetti potrebbe essere data scegliete voi mettete voi il nome in pdf ok se l'avete in excel è ancora più facile e io voglio capire da oggi cosa succede perché magari il mio dato consuntivo anzi sicuramente sarà cambiato io quando ho fatto la previsione ero a dicembre e ancora non avevo cinque mesi del 2024 ora ce li ho alle spalle perché sono trascorsi quindi parto da lì allora per fare questo e questo credetemi è un grande vantaggio nel momento in cui insomma aveste questa esigenza non devo fare altro che andare a come dire inserire all'interno della mia piattaforma quel pdf io uso il pdf ma ripeto non stiamo qua a parlare dei formati sono non dico infiniti ma sono tantissimi quelli che sono gestibili quindi vado a prendere il mio file che è questo ok cioè questo file che sto toccando è quello che abbiamo appena visto e lo vado a caricare in piattaforma vi ho detto che il 2022 e 2023 erano basati su questo stesso tipo di elaborazione quindi dal suo punto di vista non cambia nulla perché già mi ha letto quell'informazione però capite bene che a questo punto io avrò innanzitutto una informazione che è assolutamente aggiornata ok e in secondo luogo avrò anche un'informazione su cui andare ad inserire il resto delle mie ipotesi di lavoro ok vedete a questo punto lui mi ha aggiunto il il pentamestre 2024 con tutte le informazioni e se io vado a fare il business plan quindi faccio esattamente quello che ho fatto prima e qua ho veramente terminato lo dico per chi dovesse andare via immagino che insomma il tempo stringe vedete cosa è successo prima il 2024 era un anno tutto da da scrivere adesso ho già cinque mesi quindi devo ragionare sulla differenza da qua in avanti non cambia nulla poi perché i miei piani di ammortamento saranno gli stessi eccetera eccetera però ho aggiunto cinque mesi perché è importante questo perché la realtà è dinamica e quindi io con questo in questo modo sono in grado di fare un business plan che è recurrent continuo che tiene conto del fatto che ho dei dati nuovi caspita utilizziamo questi dati nuovi ok non solo lo posso fare a livello annuale ma e qua ve lo faccio solo vedere ma magari dedichiamo un ritaglio della prossima sessione per riprendere questo tema la fattibilità finanziaria chi lavora in banca ma anche le aziende sanno che sì la guardo a livello annuale che è quello che abbiamo fatto noi io però non ho guardato cosa succede nei singoli mesi immaginate che a novembre del 2024 io devo pagare un sacco di IRPEF un sacco di debiti fiscali eccetera eccetera magari succede che il mio DSCR che sull'anno è positivo nel mese di novembre non lo è e io non penso di poter andare in banca e dire guarda che per questo mese sconfino di mezzo milione sulla linea tanto poi quello dopo vado a posto non funziona in questo modo quindi posso decidere di ragionare su un ordine di grandezza temporalmente legato all'anno quindi pianifico gli anni ma allo stesso tempo di affiancare alla pianificazione annuale l'esplosione dei primi sei o dodici mesi lascio a voi decidere seguendo le stesse logiche ma sul mese questo per me è fondamentale perché vi dà a mio avviso una maggiore solidità e quindi visto che ho messo anche le rate poi mensili del nostro mutuo vediamo veramente mese per mese se questo finanziamento investimento è fattibile io mi fermo qua perché sono andato oltre di tredici minuti imperdonabile ho visto un sacco di domande vediamo se c'è qualcuna che posso prendere al volo ma altrimenti state tranquilli che rispondiamo un po' a tutto grazie Dario ok no allora sono domande un po' articolate rispondiamo in maniera in maniera dettagliata a tutto quindi vi ringrazio intanto per la insomma per la vostra per la vostra presenza spero che sia stato utile anzi anziché mandarvi il classico sondaggio dopo ditemelo adesso se non è piaciuto se cambiereste qualcosa così lo tengo assolutamente in considerazione per la prossima per la prossima volta la prossima volta appunto andremo a parlare ma vi arriverà la comunicazione di business plan legato più al capitale circolante quindi utilizzeremo questo stesso caso ma andremo anche a toccare tutta l'ipotesi del circolante vediamo se sono in grado di minare la come dire la sostenibilità del piano ok si Giuliano sull'ISIN ci ritorno l'ho visto assolutamente grazie va bene io direi che abbiamo terminato quei lavori grazie a tutti per le domande per l'interazione Christian ti ho tenuto lì un po' nel cassetto ma assolutamente ti utilizzeremo in maniera ignobile la prossima volta darlo per scontato buon pomeriggio Stefano Carrara presto grazie a tutti